è il mio primo giorno di scuola sono emozionatissima non sono riuscita a chiudere occhio per l'ansia cioè però l'ansia buona è l'emozione e non sono riuscita nemmeno a fare colazione mi si è chiuso proprio lo stomaco non vedo l'ora sicuramente anche peppa sarà già sveglia andremo a scuola insieme che bello ma che strano sembra che non si sia alzato ancora nessuno a casa di peppa ma busserò peppa sono masha peppa buongiorno signora pig come va tutto bene sì masha tutto bene ma cosa ci fai qui cara a quest'ora ma come cosa ci faccio il primo giorno di scuola peppa non è pronta ancora ma masha sono appena alle sette del mattino peppa sta dormendo anch'io stavo dormendo perché sei già qua tesoro beh perché voglio arrivare puntuale ma la scuola sono i cinque minuti da qui cara a vieni dai accomodati hai fatto colazione veramente no ok ci penso io grazie signora pig ma non so se riuscirò a mangiare sono troppo emozionata e invece dovresti mangiare tesoro e si sta tante ore a scuola bisogna fare una bella colazione ora ti porto una fetta di torta d'accordo ma peppa quando si alza o peppa lei dorme finchè non si può peppa 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 svegliati peppa e che c'è cos'è peppa dobbiamo andare a scuola sono già le otto sono le sette e un quarto le sette e un quarto e perché mi hai svegliato perché voglio arrivare puntuale tu vuoi arrivare in anticipo tu vuoi aprirla la scuola no dai voglio conoscere nuovi compagni tu li conosci già tutti io no va bene però avrei preferito dormire ancora un po dai dai dormirai oggi pomeriggio a forza andiamo sì non mettermi in fretta però masha devo andare in bagno va bene sbrigati però hai fatto masha lasciami almeno il tempo di lavarmi la faccia ai denti no va bene quanto ci metti masha mi sto un po arrabbiando sinceramente eh esci dal bagno devo fare cosa dai lo sai le cose che si fanno in bagno vai 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 va bene va bene nemmeno in bagno in pace da sola posso stare masha non ti trovavo più tesoro sono andata a svegliare peppa uh chissà come si sarà arrabbiata no no secondo me non si è arrabbiata mh sarà conoscendola invece ma no no è contenta anche lei eccomi sono pronta oh ecco finalmente buongiorno tesoro hai dormito bene mh fino a qualche minuto fa sì poi questa pazza è venuta a svegliarmi eeeh pazza pazza che paroloni ciao mamma andiamo mh buona giornata sì sì sarà sicuramente ottima arrivederci signora pig dai andiamo mamma mia che entusiasmo per andare a scuola ah così questa è la scuola eh io dove mi siedo dove vuoi ah ok allora fammi vedere da dove si vede meglio la lavagna forse forse qui sì credo che mi metterò qua va bene come ti pare ma che hai sei arrabbiata con me no no è solo che ho ancora un po' sonno mh dai ti passerà vedrai sì 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 sicuramente ma dai peppa non sei contenta di cosa che è finita l'estate che siamo di nuovo a scuola sì ci divertiremo un mondo vedrai ma ancora non c'è nessuno che strano eh che strano siamo in anticipo di mezz'ora oh vabbè almeno posso guardare tutto attentamente la lavagna tu dove ti siedi? se vuoi posso sedermi vicino a te oh sì sì mi piacerebbe allora siamo compagni di banco va bene allora sediamoci oh eccoci qua compagna di banco che bello buongiorno peppa oh buongiorno madame gazzella ma cosa ci fai qui così presto? eh è colpa mia buongiorno signora maestra io sono mascia ho letteralmente tirato giù dal letto peppa volevo arrivare qui in anticipo oh ma che brava beh cominci molto bene l'anno scolastico mascia mi fa molto piacere vedere tutto questo entusiasmo tu peppa sei entusiasta come mascia? sì sì certo che sono entusiasta sono molto contenta che la scuola sia riniziata non è vero oh 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 sì invece è vero è vero sono contenta solo che volevo dormire ancora un po' oh beh ti capisco ma vedrai ci sveglieremo questa mattina ci saranno tante cose nuove da fare ora vado nell'aula degli insegnanti ci vediamo tra poco care sì madame gazzella oh e io che pensavo di essere arrivata per prima no è già arrivata peppa ciao peppa ciao susi ciao candy vi presento mascia ciao a tutte piacere di conoscervi sono la vostra nuova compagna di classe ah un piacere nostro io sono candy lei e susi ciao mascia noi ci siamo già viste sì è vero è vero mi ricordo ci siamo viste da peppa sono così contenta che si è iniziata la scuola davvero? io invece stavo benissimo in vacanza beh a me piace la scuola però anche io stavo bene in vacanza beh ci sediamo sì sì ciao a tutti buongiorno ciao piacere io sono mascia oh ciao mascia io sono emily ciao peppa ciao susi ciao candy ben ritrovate avete passato una bella estate la mia è stata fantastica mi sono divertita tantissimo sono andata anche in vacanza ah che bello però rivedervi tutte sono proprio contenta chi manca? eh chi vuoi che manchi manca Danny oh Danny sì e non l'ho nemmeno visto fuori dalla scuola oh spero proprio che non arrivi in ritardo il primo giorno la maestra si arrabbierà tanto io intanto mi siedo così lascio Danny il posto proprio di fronte alla lavagna buongiorno buongiorno a tutti noi peppa e mascia ci siamo già salutati prima che gioia rivedervi tutti come state? come state? molto bene signora maestra benissimo bene oh mi fa piacere anche io sto molto bene sono molto felice di rivedervi tutte ci aspetto un anno scolastico entusiasmante insieme impareremo un sacco di cose faremo delle belle gite vedrete di sicuro non ci annoieremo oh sono proprio elettrizzata ma... chi manca? oh Danny già in ritardo il primo giorno? mmm mmm non ci siamo proprio buongiorno signora maestra Danny già in ritardo? mi scusi signora maestra pensavo che la scuola iniziasse domani ma Danny ahahah pensavo iniziasse domani ahahahahah dai non prendetelo in giro Danny abbiamo una nuova compagna di classe lei e Masha oh ciao Masha piacere di conoscerti vai Danny siediti siediti si signora maestra molto bene ora che ci siamo tutti e che anche Danny è arrivato e ci degna della sua presenza direi che possiamo iniziare e che sia per tutti una meravigliosa giornata che bello quando rinizia la scuola che gioia ciao